È una testimonianza che mette i brividi quella di una piacentina di 26 anni vittima di un tentato stupro nella notte tra sabato e domenica nella zona di Viale Dante. È lei stessa a raccontarci la vicenda. Stavo rientrando a casa, avevo trovato parcheggio un po' distante, erano le 5 e mezza della mattina di Pasqua. Ho aperto il portoncino in ferro del mio palazzo, poi ho percorso il vialetto che conduce al portone condominiale. Mentre inserivo la chiave nel portone, ho sentito alle mie spalle dei passi, mi sono girate e ho visto un uomo di carnagione bianca con il volto coperto da sciarpa e cappuccio. Mi aveva seguito ed ero riuscito ad entrare perché incautamente avevo lasciato il cancello aperto. L'uomo mi ha afferrato per il polso e in quel momento ha notato che aveva i pantaloni slacciati e gli slip calati. Ho gridato, l'ho spinto, ma sono inciampata nel gradino del portone cadendo all'indietro. A quel punto, forse a causa del fracasso, l'uomo è fuggito lasciandomi a terra terrorizzata. Per la 26enne è stata una Pasqua da dimenticare quando ho riacquistato la lucidità, racconta ho telefonato al mio fidanzato che ha provato a fare un giro della zona con la macchina ma del mio aggressore si erano perse le tracce. La ragazza spiega di essersi recata nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia dell'accaduto. Resta ancora tanta paura, quello che mi spaventa, spiega, è che penso possa capitare a chiunque. Io non sono affatto gracide e questo non ha disincentivato il mio aggressore. Grazie. Grazie.